Ciao, sono Marco Parolin, responsabile marketing della Parolin Racing Kart e sono lieto di aprire le porte della nostra azienda. La Parolin Racing Kart è nata dalla passione di mio padre Albino, ex pilota karting, che alla fine degli anni 80 ha deciso di portare la sua passione dalla pista a una piccola officina preparando motori e costruendo telai per conto di terze ditte. Verso l'inizio degli anni 90 ha deciso di lanciare anche il suo marchio pur mantenendo un'intensa attività di costruzione di telai e parti di ricambio sempre per altre aziende. L'ideale è sempre stata di avere il controllo, il pieno controllo su tutti i prodotti che produciamo, quindi dal taglio del tubo alla piegatura fino allo sviluppo e al design di componenti che vengono inizialmente incubati in azienda ma poi testati dal nostro reparto corso ufficiale in pista per poter appunto garantire degli elevati standard di qualità dei nostri prodotti ai clienti. Nel 2015 abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità investendo nel nostro racing team di bandiera e questo ci ha aiutati grazie ai risultati ad aprire più di 20 nuovi mercati per l'azienda e a toglierci delle soddisfazioni in ambito sportivo come per esempio svariati titoli VSK, siamo diventati campioni Asia-Pacifico e KZ e vice campioni europei e del mondo Junior e OK. Per noi è molto importante la cura del prodotto e specialmente dei processi, per questo abbiamo sempre puntato sull'innovazione e abbiamo deciso di avvalerci dei migliori partner sia a livello di software che a livello di hardware per poter garantire un processo di automazione dei nostri prodotti senza compromettere la qualità. Trattandosi di un prodotto racing per noi è molto importante che la qualità sia costante in quanto i nostri prodotti vengono utilizzati in tutto il mondo e il nostro obiettivo è appunto tenere l'asticella alta per poter fare la differenza in pista. Mi chiamo Mario Lorenzi, è dal 1974 che lavoro in questo settore, sono progettista e programmatore di macchine utensili, torni e fresatura di questa ditta. Abbiamo scelto SprutCam, mi serviva un programma cam per lavorazione su una macchina a cinque assi, siamo venuti in contatto con SprutCam, abbiamo fatto una richiesta, sono venuti, hanno installato SprutCam e ci siamo trovati bene, già dalle prime battute, abbastanza semplice e intuitivo. Le macchine utensili stiamo lavorando con delle macchine a cinque assi, torni, torni biglia, centri di lavoro di tasci, praticamente lavoriamo con tutte le macchine, macchine da barra e il materiale che utilizziamo è l'uminio, essendo un materiale più dono per lavorazione per i pezzi della competizione, cinquanto leggero. Tutti i pezzi in questo momento sono fatti dal pieno perché la competizione ci impone a fare sempre cose nuove, sempre cose veloci, quindi non è possibile fare costanti. Questa è una pinza del freno anteriore che abbiamo omologato tre anni fa. Qua abbiamo studiato un'altra fila, fatto il pezzo trafilato perché la lavorazione, lo scarto sarebbe stato esagerato, quindi il foro centrale viene perfetto e da quello portiamo per fare le lavorazioni. Abbiamo selezionato un profilo, diventato la profondità del pezzo e abbiamo fatto questa lavorazione qua. Quindi da questa prima fase passa su questo, poi su questo, su questo e questo è il pezzo finito. L'assistenza è buona, qualsiasi problema che abbiamo avuto si è andato risolto nel mio tempo possibile. Soddisfatto, la scelta è stata giusta.